In un momento straordinario come questo, fatto di pandemia, fatta di crisi internazionale, era necessario da parte nostra un aumento delle nostre capacità e del nostro impiego su questi fenomeni. E questo aumento di impiego di risorse si è concretizzato in risultati che sono visibili a tutti. Le operazioni si susseguono, supportiamo continuamente la Procura della Repubblica di Como e la disrezione distrettuale antimafia di Milano in indagini particolarmente versatili e complesse, naturalmente non facendo mancare tutta quella parte di natura amministrativa e contabile che svolgiamo attraverso i reparti sul territorio. Ciò che conta è che i cittadini abbiano ben chiaro il fatto che le forze di polizia, la Guardia di Finanza e le altre forze di polizia sono a loro disposizione. Devono capire che quando ci sono sensibilità o situazioni che ha bisogno di un confronto con una forza di polizia specializzata come siamo noi nel settore della polizia economico-finanziaria, che questi rapporti, questo dialogo ci sia. La criminalità organizzata si infiltra ovunque, quindi siamo tutti quanti a rischio. Ciò che conta è avere gli anticorpi per poter resistere.